Marcello Campa dell'Anza, il whatever it takes di Mario Draghi è entrato tra le voci della Treccani. Cosa ne pensa e cosa pensa della possibile nuova versione del Recovery Fund? Non commento la Treccani, non mi appassiona in maniera particolare il dibattito semantico. Sui fondi europei stiamo parlando dei soldi del Monopoli da quattro mesi. Sono soldi che forse, se va bene, arriveranno fra un anno. Il problema è che la metà delle aziende che ne avrebbero bisogno fra un anno non ci sono più. Quindi tutti gli altri paesi europei stanno facendo da soli. Siamo l'unico paese che sta facendo un dibattito surreale da quattro mesi sul mese del Recovery Fund. Quindi penso che sia tempo perso e sarebbe ora di archiviare la discussione. E prima porto in inaula una votazione sui fondi europei che non esistono, prima si fa chiarezza, meglio è. Credo che sia l'ultima.